Ben ritrovati da Savero Beghe e Luca Tonini Nella seconda parte di Toscana Calcio e non solo come preannunciato parleremo di calcio intanto vi ricordo i nostri contatti per le ultime domande per il nostro ospite sms whatsapp al 338 63 60 114 indirizzo mail a diretta è terradionostalgia.fm toscanacalcio.net per tutte le informazioni che volete sul calcio e non solo vabbè dai ormai l'abbiamo già anticipato nella prima parte e lo presentiamo anche qui con voi in diretta e con noi il centrocampista ex Spezia Fiorentina soprattutto neopromosso in Serie A con il suo Carpi Lorenzo Lollo, ciao Lorenzo Ciao, buongiorno a tutti Allora come va? Come si sta da neopromossi? Ma non ho neanche da chiedere questa cosa perché si sta benissimo Si sta rilassando? Diciamo che ancora ci sono queste tre partite però siamo rilassati, siamo tranquilli Sì, mancano ancora tre partite alla fine e lo ricordiamo che il Carpi è la caccia del record di punti del Palermo quindi sicuramente Mister Castori vi spremerà ancora ben bene per cercare di fare un altro traguardo storico per il campionato cadetto Sì, sì, diciamo che è un obiettivo anche quello e oltre a quello c'è anche quello delle reti subite che per adesso ne abbiamo subite 25, 26 e il record è 28 speriamo di riuscire a battere anche quello Questo record ti vede impegnato in quanto centrocampista tutto polmoni di corsa Luca però ti voleva fare una domanda riguardo la partita Carpi-Lanciano non sono tanto preparato ma lui lo sa No, niente, volevo un po' sapere se ci presentavi questa partita Sicuro è una partita difficile perché loro cercano punti per provare a arrivare ai play-off queste ultime partite quindi non sarà facile noi cercheremo di dare il massimo con la tranquillità che ormai quello che volevamo fare l'abbiamo fatto quindi siamo più tranquilli Poi un'altra curiosità ho guardato qualche partita del Carpi quest'anno mi è capitato mi è sembrato di vedere che Castori ti ha plasmato in un ruolo diverso rispetto a quello che ti vedevamo fare magari a Spezia ti ha spostato di qualche metro in avanti magari fare un po' più pressing sul portatore di palla avversario qualche inserimento in più anche in zona goal Sì, è stata una sua richiesta fin dall'inizio stagione diciamo che io mi sono trovato subito a mio agio in quel ruolo perché non è che mi chiedeva il passaggio filtrante o le cose mi chiedeva di fare le solite cose che facevo nell'altro ruolo quindi la posizione era un po' più avanzata quindi noi cerchiamo di fare pressing più alto E dunque un ruolo un po' più avanzato Sì, esatto Sappiamo, anzi tutti sanno del tuo trascorso in quel di Spezia dove penso hai lasciato anche un po' una fetta di cuore essendo cresciuto nel vivaio diciamo anche dello Spezia lo Spezia però lo sai adesso è impegnato in Serie B in questo playoff speriamo ci arrivi ovviamente la nostra squadra nel quale siamo media partner Stefano ci ha scritto su Whatsapp da Monti di Licciana ci scrive Lorenzo perché non sei rimasto con noi adesso dovrei spiegargli a lui e a tutti gli altri che l'hanno scritto sui social l'ho letto diversi post Sì, perché? perché è stata una cosa un po' così diciamo la società magari in quel periodo non so se non credeva molto in me o non mi vedeva molto bene è stata una cosa da una decisione presa insieme diciamo e niente diciamo che per fortuna per me è andata bene è stata la scelta giusta scelta super azzeccata possiamo dire in questo caso sempre rimanendo sullo Spezia giocherà ovviamente questa sfida importantissima contro il Vicenza le tue impressioni secondo te ce la possono fare i ragazzi di Bielizza a raggiungere il traguardo della secondo me sì secondo me sì perché sono una squadra molto forte poi adesso sono anche lì sono quarti in classifica dopo il Bologna quindi sono scusa quinto in classifica dopo il Bologna secondo me possono provarci adesso che sono lì mancano tre partite perché non devono non devono provarci spostandoci invece in Serie A un'altra squadra che ti ha visto protagonista sempre nel settore giovanile la Fiorentina ci sarà questa domenica ci sarà il derby in Polifiorentina come vedi la squadra di Montella che gioca un calcio totalmente l'opposto di quello che fa il Carpi soprattutto dopo la pesante sconfitta di Siviglia come vedi ieri sera sì sì ma non lo so guarda io ieri sera non ho visto ti dico la verità non pensavo perdersi 3-0 perché la partita non è stata proprio diciamo così così brutta però fanno un calcio un po' più orizzontale rispetto al nostro noi facciamo un calcio più verticale attacchiamo più la profondità loro però secondo me sono una squadra forte molto forte anche quest'anno l'hanno dimostrata in campionato e niente un derby però è sempre un derby quindi c'è da stare molto attenti Lorenzo ma una domanda un po' così dove ti vedremo il prossimo anno è sicura la tua permanenza a Carpi o c'è qua stato qualche squillo no perché te lo dico adesso voglio rivelarlo quando gioco a Football Manager non gioco tantissimo ogni tanto gioco il Catania ti compra sempre voglio in Serie A tra l'altro il Catania sale sempre in Serie A voglio sapere dove andrai a giocare il prossimo anno se ovviamente rimarrà lì no probabilmente rimango a Carpi di altre altre proposte altre offerte ancora non ho sentito parlare non ho parlato con il mio procuratore quindi 99 su 100 diciamo che rimango molto volentieri a Carpi ovviamente ci auguriamo che sia un campionato trionfale anche quello ovviamente di Serie A una piccola domanda la dedica a chi l'hai fatta per questa bellissima promozione? l'ho fatta soprattutto alla mia famiglia e poi anche alla mia fidanzata va bene diciamo che è un classico via niente di... sì per forza è normale la mia famiglia mi segue da quando sono da quando avevo 5 anni quindi come faccio a non dedicarla a loro è stata la vittoria più importante da me via diciamo quindi è normale che che la dedichi a loro come sono andati i festeggiamenti Lorenzo? ma bene dai bene anche perché poi ha portato la vittoria nel derby quindi ebbè esatto dopo che abbiamo festeggiato abbiamo vinto anche il derby quindi esatto il top il top il top il top Luca ti voleva fare una domanda molto tecnico lo sai Luca Tonini è il nostro tecnico no vabbè questa non è tanto di campo volevo sapere se ci inizieranno dei lavori allo stadio Cabassi se sarà pronto per il prossimo campionato di Serie A o come è capitato al Sassuolo vi sarete costretti a trasferirvi in qualche città vicina magari Modena ma ti dico la verità stanno provando a fare un progetto però non so non so bene se riescono a farlo o no so che c'è stata una richiesta di un progetto e speriamo che che vada a buon fine questa cosa dai Lorenzo siamo arrivati in chiusura ti lasciamo tranquillo ai tuoi allenamenti e ovviamente ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questa ricerca di record e soprattutto per il prossimo campionato di Serie A che ti veda protagonista dai diciamo così crepi grazie mille crepi il lupo è stato con noi Lorenzo Lollo grazie ancora ciao grazie a tutti ciao un grande giocatore un grande giocatore dal sicuro avvenire Luca sì speriamo che si possa mettere in luce anche nella Serie A perché ha giocato quasi in tutte le categorie è un giocatore diciamo che ha avuto anche questa evoluzione tattica da centrocampista classico ha spostato come ha detto lui qualche metro più avanti sempre con i soliti compiti di interdizione però insomma si è dimostrato un giocatore polivalente quindi giovane ma di esperienza sì questa d'utilità sicuramente li potrà tornare utile quando si misurerà con la Serie A un campionato davvero davvero difficile il nostro in bocca al lupo va ovviamente al Carpi una realtà stupenda e l'abbiamo testimoniato con la canzone ovviamente The Miracle sì abbiamo detto The Miracle ma sicuro dietro c'è molto lavoro da parte del DS Giuntoli e dei mister Castori che hanno veramente confezionato una stagione straordinaria con dei costi molto bassi giocatori del futuro perché sono giocatori quasi tutti giovani e quasi tutti che hanno già fatto adrizzare le antenne ai DS delle società importanti quindi ancora una volta un grande applauso a loro ma anche ai giocatori che hanno dimostrato grande professionalità per questa super stagione e quindi